Bene, buon pomeriggio a tutti, saluto i miei studenti che mi seguono da casa, ma probabilmente altre persone o altri studenti che seguiranno questa lessione successivamente. Allora, come naturalmente i miei studenti sanno, abbiamo iniziato nel corso di semiotica illustrando, diciamo almeno nella prima parte, alcuni riferimenti teorici della disciplina. Quindi siamo arrivati ad una situazione in cui siamo in grado naturalmente di affrontare un aspetto un po' più applicativo, un po' più concreto della disciplina. E quindi oggi vi parlerò naturalmente della semiotica dello sport, con un'attenzione particolare al calcio. Prima però facciamo una premessa o alcune premesse, naturalmente sempre per, diciamo così, ricollegare il discorso che faremo alle lessioni precedenti. Intanto abbiamo detto, sin dalle prime lessioni, che la società in cui viviamo è una società circondata da segni. Quindi facciamo riferimento naturalmente a numerosi veicoli fisici, cioè indicatori luminosi, acustici e quant'altro, che conducono con un meccanismo di rinvio a qualcos'altro, quindi attraverso pensieri e supposizioni. Questo naturalmente è il primo dato, però abbiamo aggiunto un altro dato interessante, un altro dato importante, cioè che, diciamo, quando parliamo di segno, si osserva una relazione a quattro variabili, cioè qualcosa che sta per qualcos'altro per qualcuno in certe circostanze. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il segno è segno nel momento in cui viene appunto interpretato da qualcuno, e quella persona naturalmente interpreta quel segno nell'ambito di un contesto specifico, in riferimento a circostanze particolari e così via. Ecco perché in questo senso lo stesso segno può essere interpretato diversamente da diverse persone, o ancora dalla stessa persona, però in momenti diversi. Il terzo elemento, diciamo, su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, che abbiamo già affrontato nelle lezioni precedenti, è il ruolo della comunicazione. Noi abbiamo detto che, naturalmente, nell'analizzare il segno non ci riferiamo soltanto alla lingua, quindi al segno linguistico, ma ad altre forme di linguaggio. E poi un altro dato interessante è che, quando parliamo di comunicazione, sicuramente non ci riferiamo ad un evento lineare, bensì ad un processo ben articolato e dinamico. E riprendendo un po' le riflessioni di De Mauro, abbiamo detto, diciamo, quindi che la comunicazione non appunto si limita soltanto alle parole, lui stesso dice addirittura che parlare non è necessario, o ancora le parole non sono tutto. E questo per dimostrare, naturalmente, che nella comunicazione, nel mondo in cui viviamo, si può vivere senza parlare, ma non si può vivere senza comunicare. E quindi, per comunicare possiamo fare riferimento, naturalmente, a tutte le risorse, appunto, semiotiche a nostra disposizione, a tutti gli strumenti. Possiamo fare riferimento anche al silenzio. Il silenzio è uno strumento di comunicazione. Non dobbiamo necessariamente tradurre il silenzio con il silenzio, perché il silenzio è portatore di significato. E quindi si può e si deve, naturalmente, dare un senso anche al silenzio. Così come possiamo e dobbiamo tradurre le emozioni, perché, in base al contesto, in base alle circostanze, naturalmente, le nostre emozioni, naturalmente, ci dicono molte cose. Quindi la comunicazione ha un ruolo molto determinante. Quando parliamo, naturalmente, di semiotica, superando, naturalmente, quindi, la dimensione meramente linguistica, quindi non solo parole, ma altri linguaggi. Abbiamo visto, fatto riferimento al linguaggio non verbale, paraverbale, e quindi altre forme, appunto, di linguaggio. L'ultimo punto, diciamo, di questa premessa, per poter contestualizzare, prima o poi di andare ad analizzare, entrare proprio nel merito della semiotica dello sport, è il ruolo del contesto. Il ruolo del contesto, in questo caso, faccio sempre riferimento a De Mauro, dice, strappata al suo contesto verbale, e al suo contesto situazionale, il contesto situazionale, cioè quell'insieme di circostanze linguistiche o estralinguistiche in cui si verifica un atto comunicativo, quindi strappata al suo contesto verbale, al suo contesto situazionale, e fatta ascoltare fuori contesto, a uditori della stessa lingua, una sequenza sillabica, anche ampia, risulta inidentificabile. Quindi il ruolo del contesto, in questo caso, naturalmente, fa riferimento anche al cotesto, cioè gli elementi, appunto, presenti all'interno di un testo e del stesso testo, è fondamentale per la comprensione, naturalmente, del testo. Vi faccio vedere un esempio. Allora, giovedì, te vedi, di punto Matteo. Ma che cosa vuol dire? Giovedì, te vedi, di punto Matteo. Quindi, chi legge questa frase, la legge, la capisce. Giovedì, è un giorno alla settimana, ti vedi Don Matteo, e, appunto, chi vive a Roma, sa, chiaramente, che è un riferimento, chi scrive o chi parla, naturalmente, si riferisce, naturalmente, ad una persona. Il di punto è da interpretare. Quindi, e Matteo, chi è questo Matteo? Quindi, per poter capire questa frase, bisogna contestualizarla. Quindi, e per contestualizarla, abbiamo bisogno, ci servono delle conoscenze particolari. Quindi, chi è in Italia, probabilmente, ha più probabilità di conoscere, di comprendere, di capire il significato di questa frase, rispetto, ad esempio, a chi non è in Italia. Bene, ora, vi aiuto, inserendo, poi, un altro elemento, appunto, contestuale. Giovedì, te vedo, di punto Matteo. E quindi, siamo, come potete vedere, intanto, non è detto, bisogna capire, dove, se stiamo parlando di una manifestazione, per strada, o allo stadio, ma intanto, è allo stadio, ve lo dico. Però, chiaramente, leggendo questa frase, vedendo questa foto, l'altro step da fare, appunto, era, e è, intanto, di contestualizzare, dire, ma dove sono queste persone? Abbiamo identificato, stiamo parlando, appunto, di tifosi allo stadio, e che cosa c'entra? Quindi, di punto Matteo. Intanto, chi è questo di punto Matteo? Di punto Matteo è Don Matteo, quindi Don Matteo, naturalmente, il personaggio principale, protagonista di questa serie televisiva. Quindi, abbiamo un po' contestualizzato, ma non è chiaro, ma siamo sicuri che abbiamo capito, giovedì, te vedi Don Matteo, e poi, allora, qui bisogna, quindi, entrare nel contesto, o analizzare anche il contenuto del testo, i colori, per capire, intanto, chi sono i destinatari, i destinatari, perché, appunto, fanno vedere questo messaggio. Naturalmente, chi segue il calcio, sa che, in questo caso, sono i tifosi della Lazio, che, appunto, prendono in giro quelli della Roma, perché, avendo perso il, non essendosi qualificati, diciamo, per il turno successivo, appunto, nella competizione dell'Europa League, dovranno, di solito l'Europa League, si gioca di giovedì, e Don Matteo va in onda di giovedì, quindi, ora, non potranno più andare allo stadio, e dovranno stare a casa, a guardare Don Matteo. Quindi, questo è il senso. Come avete capito, difficile da capire, se non entriamo, proprio, nel contesto, appunto, negli elementi, appunto, profondi, del messaggio. Questo era, quindi, il significato, appunto, del ruolo del contesto, quindi, a cui faceva riferimento, De Mauro. Benissimo. Allora, fatta questa premessa, ora iniziamo a parlare di calcio. Allora, qui, vi faccio una brevissima introduzione, partendo dal bellissimo volume, di Davide Pessac, Pessac, semiotica del calcio in tv. Premetto, intanto, che non vi parlerò, in questo pomeriggio, di semiotica del calcio in tv, ma come avete, ovviamente, intuito, vi parlerò di semiotica del calcio, allo stadio, e, molto più specificamente, sugli spalti. Però, è interessante, l'introduzione che propone, l'autore, perché, in realtà, come lo dirò, fa questa introduzione, praticamente, abbraccia anche quello che poi, fa riferimento a quello che poi analiseremo, nel corso di questa lezione. Allora, lui dice, lo sport è oggi uno degli spettacoli maggiormente in grado di saturare il nostro immaginario, televisivamente parlando, ha la capacità di unire audience, dalle caratteristiche sorprendentemente trasversali, per generare entusiasmi locali o planetari. Ma il suo linguaggio, e questo è il pezzo che mi interessa di più, ma il suo linguaggio è sempre più intriso di segni che non gli appartengono, che hanno più a che fare con logiche di spettacolo e di marketing, e che raccontano, quindi, storie altre, legate ad una progettualità. ben più complessa del singolo e semplice gesto atletico. Quindi, un dato interessante, lui dice, il suo linguaggio è sempre più, diciamo, fa riferimento a un numero sempre più importante di segni, che non gli appartengono. quindi il calcio parla un'altra lingua, quindi chi racconta il calcio non racconta il calcio, o meglio, racconta un po' il calcio, ma sicuramente racconta molte altre cose che non fanno, diciamo, riferimento, che non hanno un legame diretto e con il calcio. E sono queste altre cose che non hanno un legame diretto con il calcio, che sono difficili da interpretare, se noi non andiamo, se noi non intendiamo andare, intendiamo superare, appunto, la traccia visibile, andare oltre alla traccia visibile. E quindi, lui dice, raccontano quindi storie altre, quindi storie diverse dalla storia che vediamo. Quindi, un po' come vedremo successivamente, io dico, io sostengo, che accanto alla partita, appunto, di calcio, c'è un'altra partita che si sta giocando. Ci sono probabilmente tante altre partite. e c'è anche quella che si gioca sugli spalti, come vedremo. Quindi questo riferimento alla semiotica del calcio in tv, a nostro avviso, è molto interessante ed è per noi un po' un assist, che ci consente, naturalmente, di parlare di semiotica del calcio, anche sugli spalti. Prima, diciamo però due cose, facciamo riferimento a due studiosi, Nicola Poro, che è un sociologo dello sport, dice, il calcio ha cessato da molto tempo di rappresentare soltanto un gioco, perché nel tempo della globalizzazione costituisce un vero e proprio sistema culturale. Ed è esattamente quello che si diceva prima. Cioè il calcio non è più soltanto un gioco. E il calcio coinvolge, naturalmente, non solo per via degli addetti al lavoro, naturalmente, che fanno un po' di tutti. Quindi abbiamo giornalisti, abbiamo allenatori, abbiamo, insomma, abbiamo un po' di tutti. Quindi abbiamo i tifosi, e quindi i tifosi che sono lavoratori, che sono pari di famiglia, che fanno tutti. Quindi il calcio, come possiamo notare, è un vero e proprio sistema culturale. Ma, per scoprire, anche chi non se intende di calcio, oppure chi non segue il calcio, lo può notare tranquillamente quando gioca alla nazionale. Quando gioca alla nazionale italiana, si capisce che qualcosa sta succedendo. E quindi il calcio è un vero e proprio sistema culturale. Lo dice Nicola Poro, ma anche Morani, che è linguista, dice che il calcio, o considera il calcio, come un fenomeno ormai di costume, e di vasta popolarità, che interagisce con altri settori della vita sociale. E quindi anche lui fa riferimento, già a quanto detto precedentemente, da Poro e dall'autore della semiotica della televisione. E quindi altri settori della vita sociale, pertanto all'interno del calcio, parlato e scritto, e quindi in questo caso, devo dire, Morani fa riferimento, naturalmente, all'analisi del linguaggio giornalistico, quindi, radio cronaca, tele cronaca, ma anche, naturalmente, delle fonti, come potete immaginare, oggi le partite vengono raccontate anche su internet. Quindi, pertanto, all'interno del calcio, parlato e scritto, vengono assorbiti termini che non fanno riferimento al gioco, bensì alle sue ricadute sociali. Questi tre autori non si conoscono, appartengono a settori scientifici disciplinari, diversi, però dicono la stessa cosa. Cioè il fatto che il calcio raccontato, che poi noi vediamo tutti i giorni, non faccia riferimento soltanto al gioco, bensì ha le sue dimensioni ricadute sociali. Bene. Da questa, abbiamo quindi fatto questa premessa per poi entrare ora a parlare di semiottica del calcio. intanto, prima di un altro riferimento, un po' per contestualizzare, prima di parlare di striscioni, è che l'universo comunicativo e semiottico del calcio è molto ampio, quindi non riusciremo, naturalmente, in questa sede a illustrare tutti gli aspetti. Uno si potrebbe tranquillamente focalizzare sul linguaggio degli abitri, e quindi chi segue il calcio ha capito che negli ultimi anni il modo di arbitrare appunto una gara è cambiato, non soltanto per il numero delle persone, degli abitri, ma anche per gli strumenti, quindi tecnologici, come l'ultimo arrivato, è il VAR, quindi che fa sì che la direzione di una gara non è più soltanto nelle mani dell'abitro, ma anche di questi strumenti tecnologici. però quindi si potrebbe approfondire questo tema, ma in questo caso non lo facciamo. Gli sponsor, notiamo la differenza tra gli sponsor commerciali, gli sponsor tecnici che anche loro entrano a far parte diciamo del grande panorama comunicativo e semiottico del calcio. I giocatori con le loro lingue, con i loro linguaggi e quant'altro anche loro fanno parte di questo processo. I dempelli allenatori, i giornalisti, appunto che devono confrontarsi molto spesso con giocatori stranieri, quindi parlare nelle loro lingue, a volte fare riferimento ad interpreti e così via e anche in questo caso si può approfondire, però anche in questo caso non lo faremo in questa sede. E poi ci sono i tifosi e noi stasera decidiamo di focalizzare l'attenzione sui tifosi e sul loro linguaggio. e quando parliamo di tifosi anche in questo caso noi possiamo concentrare, focalizzare l'attenzione sicuramente sui striscioni, perché chiaramente le striscioni ci consentono di entrare proprio nel vissuto quotidiano del processo identitario naturalmente di questi tifosi. Dobbiamo però definire chi sono appunto questi tifosi, autori di questi striscioni che vengono spesso chiamati ultras. E poi naturalmente il luogo emblematico appunto dove questi striscioni diciamo così trasmettono questo sentimento e trasmettono questa identità e lo stadio, ma nello specifico la curva come poi vedremo. Oltre agli striscioni naturalmente negli stadi abbiamo anche le coreografie che naturalmente trasmettono anche appunto in questo caso dei messaggi attraverso delle scritte ma anche attraverso delle immagini e quant'altro. Bene, quindi questo è quello che vedremo ora iniziamo a focalizzare l'attenzione su alcune diciamo un inquadramento teorico. Allora, devo dire nel contesto italiano ci sono pochi studi su queste tematiche ricordo ad esempio il lavoro di Bocafurni in riferimento alle tifoserie romane di guerra in riferimento alle tifoserie alla tifoseria fiorentina e i lavori del sottoscritto in riferimento alle tifoserie scusate c'è un refuso tifoserie appunto in Italia in Francia e in Gran Bretagna. Allora diciamo cerchiamo di inserire un po' quello che diremo in un quadro un po' teorico metodologico. per alcuni autori là lo studio degli striscioni si può inserire o può fare parte diciamo così di quella diciamo di quella linea appunto di ricerca o di studio che viene chiamata semiotic landscape e quindi attraverso questo processo tutte le scritte diciamo immagini come abbiamo detto prima facendo riferimento alle coreografie quindi le scritte e immagini naturalmente presentate oppure collocate in luoghi pubblici è in grado naturalmente di trasmettere di trasmettere senso e quindi parliamo di creazione di senso quindi quando una persona l'autore di un striscione che poi in realtà scopriremo che molto spesso gli striscioni si scrivono appunto c'è una proprio fosse un vero proprio comitato di redazione appunto che va a pensare appunto lo striscione da poter diciamo portare allo stadio esibire allo stadio e quindi qui c'è un riferimento la semiotic landscape dice quando c'è quindi questo processo di creazione del senso e quindi che parte dalla volontà appunto di una o più persone sicuramente e quindi gli striscioni possono far parte diciamo di questo possono inserirsi appunto nell'ambito della semiotic landscape Halide Buchholz e Hals fanno riferimento agli striscioni come socio diciamo inserendo le striscioni nell'ambito della socio semiotica anche in questo caso c'è l'idea della creazione del senso e poi aggiungono il riferimento al contesto diciamo abbiamo già parlato del contesto precedentemente quindi per capire il contenuto il messaggio del testo bisogna sicuramente conoscere bene il contesto è un processo e questo lo vedremo è un processo identitario secondo Schering è un processo identitario che creano dei legami molto forti non solo diciamo per rivendicare la propria partenenza diciamo la propria partenenza ad una squadra specifica ma anche per rivendicare la propria partenenza regionale la propria partenenza locale e così via quindi come possiamo vedere grazie alle striscioni allo stadio alla curva riusciamo naturalmente a riusciamo a dare una nuova interpretazione quindi un nuovo modo di interpretare di vedere la nostra comunità la nostra società perché chi va allo stadio è un cittadino è un lavoratore è uno studente è un marito e così via e quindi ognuno naturalmente con propria identità personale sociale appunto va allo stadio e quindi questa fusione appunto di identità di processi identitari fanno quindi dello striscione quel testo e quindi questo ci facciamo riferimento alle definizioni che abbiamo fatto prima fanno quindi lo striscione un testo che non parla solo di calcio ma un testo che parla di altro di molte altre cose e quindi è un linguaggio creativo è un linguaggio creativo tanto ermetico quanto creativo e divertente però dobbiamo anche dire molto spesso grotesco e offensivo questo lo dobbiamo dire e questo attraverso figure retoriche e l'attaccamento ai principali elementi culturali più avanti naturalmente lo dico ai miei studenti avremo modo di analisare diciamo alcune proprietà del linguaggio e quindi tra cui c'è la la creatività vedremo che c'è una creatività regolare e una creatività non regolare quindi la creatività non regolare consente di quella regolare di seguire le regole partendo da un numero naturalmente molto limitato di regole di parole quella non regolare si propone proprio di violare le regole però la comunicazione funziona la comunicazione funziona lo stesso questo poi lo vedremo nelle prossime lezioni quindi abbiamo un linguaggio creativo e c'è questa combinazione tra la libertà di parole cioè la libertà di usare le parole la libertà di creare appunto le parole la libertà di pensiero e dall'altra parte c'è poi quella guerra di parole perché non dimentichiamo e questo lo vediamo quando parlo di partita nella partita sono le due tifoserie naturalmente che stanno giocando un'altra partita attraverso le parole quindi una tifoseria scrive manda un messaggio e l'altra risponde ma non necessariamente naturalmente se se quel calcio sa che ci sono le cosiddette soffiate per cui quando la tifoseria opposta sa che gli altri hanno preparato un testo di questo tipo allora si preparano anche la risposta così appena gli avversari appunto fanno vedere lo striscione loro appunto rispondono a volte però la risposta arriva dopo anche dopo anni e questo è interessante quindi un dialogo continuo anche a distanza di vari anni quindi dietro a tutti i rumori che contraddistinguono l'universo comunicativo di questo fenomeno si nascondono quindi dei valori di senso e questo è molto importante bene andiamo a vedere analizzare alcuni aspetti appunto della dello stadio e quindi ci sono almeno tre elementi cioè la cuva ci sono i tifosi e poi c'è lo striscione poi c'è eventualmente anche la partita quindi ora analizzeremo molto velocemente questi quattro aspetti questi quattro concetti e poi vi farò vedere alcuni esempi naturalmente di questi striscioni quindi intanto la curva e lo stadio diciamo la curva perché è proprio il luogo di predilezione appunto dove appunto si posizionano i tifosi o meglio gli ultras appunto allo stadio e sono loro che molto spesso appunto usano esibiscono gli striscioni quindi non solo come un luogo fisico ma come abbiamo visto è un luogo identitario e quindi dove ci sono persone che appartengono a diverse che parlano varie determinate lingue che hanno un determinato profilo sociale e quindi non è solo un luogo fisico quando dico cuvanod non dico solo cuvanod così come quando dico cuva sud non dico solo cuva sud in riferimento allo stadio olimpico oppure al meazza di Milano quindi sto dicendo molte altre cose sto raccontando la storia appunto di un gruppo che ha un'identità molto forte quindi abbiamo migliaia di tifosi all'interno dello stadio abbiamo detto diversi elementi appunto che arricchiscono l'universo semiotico dello stadio abbiamo i cori i bali i colori le coreografie le parole i numeri e quindi tante lingue e tanti e tanti linguaggi siamo di fronte naturalmente ad uno spazio mediatico naturalmente uno spazio mediatico anche grazie alla radio alla televisione a internet che fa sì che tutto quello che appunto si svolge all'interno di quello di quello stadio naturalmente se ci sono 80.000 appunto spettatori allo stadio come può essere il caso ad esempio del Meazza chiaramente grazie alla televisione la partita ma anche quella sugli spazi si vede un po' in tutto il mondo da milioni e milioni di persone e quindi la curva o lo stadio diventa uno spazio ideale in cui i tifosi esprimono liberamente passioni e frustrazioni rivendicano rivendicano e ci coscrivono la loro identità territoriale un po' come voi l'avevo detto però ho messo tra virgolette liberamente perché chiaramente come ho detto purtroppo i messaggi degli striscioni non sono sempre accettati dalle autorità e quindi diciamo negli ultimi anni c'è stato un controllo molto 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 severo rispetto all'istriscione nel senso che gli autori degli striscioni dovevano inviare o devono tuttora inviare una comunicazione le autorità che organizzano la manifestazione sportiva indicando naturalmente il titolo diciamo praticamente il contenuto dello striscione c'è tutto quello che era scritto e così e questo naturalmente i tifosi non accettano ben volentieri questa nuova strategia che consente sostanzialmente di limitare il più possibile naturalmente striscioni offensivi e groteschi e quindi liberamente in un certo senso perché comunque c'è un controllo appunto anche se in qualche modo trovano sempre una soluzione per poter diciamo bypassare questi controlli e quindi De Mauro parla ad esempio di libertà nell'usare le parole quindi dicendo lo spazio in cui ci muoviamo con frasi e parole lo spazio linguistico non è il caos quindi libertà nell'usare le parole e quindi c'è un confronto cioè quindi c'è un clima prima ho parlato di libertà e di usare le parole e dall'altra parte anche di di guerra delle parole tra le varie ma in questo caso facendo riferimento alla libertà dell'usare le parole diciamo chiaramente gli strumenti le proprietà del linguaggio appunto abbiamo a disposizione ci consentono comunque di 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 interpretare di interpretare le parole le frasi appunto che che leggiamo quindi abbiamo gli strumenti semiotici importanti per poter non solo raccontare la partita attraverso gli striscioni ma soprattutto interpretarla e quando possibile naturalmente è meglio naturalmente che gli striscioni appunto che raccontano la partita siano il più possibile amichevoli appunto divertenti anche se purtroppo non è sempre così c'è quindi un riconoscimento della semioticità naturalmente in questo caso De Mauro non si riferisce specificamente allo sport o agli striscioni ma parla un po' in generale come abbiamo visto non abbiamo soltanto parole un agli human ma abbiamo altre forme di semiosi come gesti posture del corpo danza musica numerazioni cifrazioni e calcoli peguera lo stadio o la cuva è anche uno spazio fisico abbiamo detto ma sicuramente anche uno spazio geografico sociale e culturale ma è anche uno spazio linguistico e narrativo è uno spazio di significazione legato a processi costruttivi di soggettività individuali e collettivi che in esso trovano realizzazione e quindi come dicevamo ognuno di noi ha un'esperienza individuale ha un'identità e quindi ritrovarsi allo stadio quando i tifosi si ritrovano allo stadio mettono insieme appunto la loro esperienza individuale e creano diciamo così qualcosa e quindi quella curva diventa uno spazio di significazione perché ognuno di noi è portatore naturalmente di un'esperienza individuale che naturalmente tradotta in parole in gesti o in espressioni particolari dice questa è la mia questa è la mia identità questa è la mia storia questo è quello che voglio raccontare e siccome appunto nella cuva i tifosi hanno molto spesso la un'identità condivisa cercano quindi di trasmettere alcun punto quell'identità e l'analisi delle situazioni si inserisce anche in quello che si può chiamare il discorso visivo che richiede naturalmente una decodificazione dei significati come abbiamo già visto i tifosi sono anche degli attori sociali quindi i tifosi in generale ma gli ultras in particolare sono gli autori quindi la parola ultras nel Dissonario Nuovo de Mauro è attestata nel 1961 secondo appunto l'identiche proposte da Bocafurni sono tendenzialmente di sesso maschile in età diversa ma da 18 a 50 estrazione sociale medio bassa e all'interno naturalmente notiamo una disciplina quindi poi una rigida divisione gerarchica e lo scopo naturalmente finale che vediamo tutti è quello di realizzare le coreografie e gli striscioni come già detto diciamo sono sicuramente cittadini sono mariti sono lavoratori e poi sono anche cifosi il loro ruolo è talmente importante che vengono chiamati addirittura dodicesimo uomo quindi una parte proprio integrante dell'ingrenaggio del sistema calcio e per farlo notare alcuni tifosi faccio l'esempio di alcuni striscioni società alla deriva squadra in alto mare solo la nostra fede è da salvare quindi questi sono tifosi della Roma che nonostante la situazione difficile appunto della società loro appunto sono accanto alla squadra contro tutti e tutto ma sempre con voi e quindi forse ragazzi questi sono i tifosi della Fiorentina quindi l'idea del tifoso Ultras come attore sociale secondo Bocafurni è quindi quella che lo vede inserito in un processo identitario che presuppone l'acquisizione di una precisa formamenti se cioè è un particolare modo di pensare che richiede il rispetto di alcune regole tra cui apprendere cori coreografie accompagnamenti e battimenti come ho detto prima vestire in un certo modo indossare simboli di riconoscimento condividere stili espressivi ed emotivi e naturalmente realizzare striscione poi la partita è l'abbiamo già detto non è solo un geocco ma è anche un fatto sociale l'ho già detto precedentemente si sta giocando appunto quando ci sono restricioni si sta giocando un'altra partita quella relativa alla guerra e alla sfida delle parole tra i tifosi sugli spalti e è interessante perché tutti gli studiosi concorrono nel dire appunto che c'è un significato altro abbiamo visto all'inizio anche Ferreri dice migliaia di parole che determinano un valore aggiunto per tutto il calcio dando alla competizione un significato altro rispetto alla semplice partita arricchendola di passione e partecipazione emotiva e infine prima poi di far vedere gli esempi illustriamo molto velocemente il concetto dello striscione come genere testuale e quindi naturalmente per genere testuale riprendendo le parole di Massimo Parlermo si fa riferimento alla categoria di genere ogni qual volta in una determinata cultura si consolida una tradizione che attribuisce a determinate produzioni una relativa stabilità di caratteristiche formali quindi si parte quindi dal presupposto che non si ha la presunzione di ricercare modelli universali bensì la consapevolezza che ogni comunità ha il suo repertorio di generi nel senso che dà riconoscimento formale ad alcuni generi e non ad altri solupando quindi una estetica ad essi collegata e quindi c'è l'idea di tradizione e poi di stabilità di caratteristiche formali vediamo meglio un po' la struttura delle istituzioni per poter fare di questo strumento un genere testuale da una parte a sinistra avete un po' la struttura fisica materiale appunto lo stiscione quindi c'è una materia una dimensione quindi la materia secondo la definizione di De Mauro tessuto plastica carta o simile e poi dimensione che può cambiare la modalità di trasmissione attraverso la calligrafia l'iconografia o l'aspetto cromatico che è portato di senso quindi celeste che abbiamo visto rispetto a Giovedì Teveti Don Matteo si riferisce alla Lazio anche in virtù naturalmente dei colori sociali di questa squadra il luogo di esposizione e la forma del supporto naturalmente rettangolare oppure quadrato e quant'altro poi abbiamo diciamo la parte un po' più profonda quindi la funzione e la struttura abbiamo le regole e le strategie comunicative abbiamo la combinazione di vari modelli testuali così detti testimisti perché all'interno naturalmente dei striscioni abbiamo riferimenti a diverse situazioni abbiamo una lettera peta abbiamo riferimenti poetici comici e quant'altro e quindi questo fa naturalmente dello striscione un testo molto articolato molto dinamico vediamo però molto velocemente di tanto bisogna dire che non solo gli striscioni perché questi che entrano allo stadio con una lettera appunto stampata sul t-shirt e quindi riescono comunque a farsi a trasmettere il loro messaggio e naturalmente qui dal punto di vista semiotico questo è importante perché quindi non serve necessariamente appunto quella tessuto quella materia a cui abbiamo fatto riferimento prima ma anche attraverso un insieme quindi un numero importante di magliette si può realizzare e riuscire a scrivere e trasmettere il messaggio che si vuole trasmettere ora vi faccio vedere molto velocemente alcuni esempi di striscioni allora nell'ambito del copus che ho raccolto nella mia ricerca ho raccolto in questo momento un lavoro ancora in corso e quindi ho raccolto finora oltre ho raccolto e analizzato oltre 3.000 striscioni diciamo esposti appunto negli stadi italiani negli ultimi 30 40 anni e quindi è interessante osservare che qui un 55% appunto di questi striscioni sono il 55% si riferiscono naturalmente agli sfotò quindi questa forma comunicativa che si basa un po' su una presa in giro vivace e allegra nei confronti degli avversari e bisogna dire che nel momento in cui molti striscioni nascono per sfidare la tifoseria avversaria lo sfotò è proprio l'essenza naturalmente degli striscioni e quindi quella di andare a inviare un messaggio e vedere un po' come reagiranno gli avversari e poi naturalmente gli avversari reagiranno e come reagiranno con una risposta e poi gli altri con un'altra risposta e così via poi abbiamo l'elogio la protesta ci sono messaggi di solidarietà ma anche messaggi personali come vedo poi ci sono alcuni messaggi di protesta ad esempio nei confronti della propria squadra qui naturalmente non ho inserito che ci sono naturalmente delle proteste molto forti molto molto aggressive in questo caso ho proposto una proposta una protesta più soft e quindi almeno un tiro in porta sono i tifosi interisti che chiedono alla loro squadra un po' più grinta ci sono naturalmente proteste nei confronti da una parte della propria squadra ma nei confronti delle soluzioni ma non necessariamente legate al calcio quindi fatti presto fame questa ad esempio una protesta in riferimento alle partite programmate all'ora di pranzo o questo calcio fa schifo in riferimento all'appetivo e c'è il caso naturalmente del Filippo del piccolo Filippo un piccolo tifoso dell'Inter che dice potete vincere altrimenti a scuola mi prendono in giro e questo è un periodo naturalmente quando l'Inter non stava andando bene e vabbè qui ho illustrato un po' ricostruito un po' i vari riferimenti i vari riferimenti a cui si associano le proteste quindi sia dal punto di vista del calcio in riferimento al calcio sia in riferimento alle diciamo all'attualità nazionale o internazionale quindi riferimento al calcio c'è calciopoli la situazione di videosoveglianza PTV casi di doping e così via mentre invece per quanto riguarda l'attualità nazionale abbiamo la guerra del golfo il divieto di fumare la patente appunti lo spread la crisi economica e così via poi per quanto riguarda la solidarietà vediamo insomma alcuni messaggi forti in riferimento alla solidarietà al popolo d'Abruzzo dopo appunto il terremoto oppure il Genova nel cuore dopo diciamo il crollo del ponte Morandi infine abbiamo anche alcuni riferimenti linguistici quindi abbiamo le lingue abbiamo i dialetti quindi l'italiano sicuramente come abbiamo visto ma non solo l'italiano ci sono i dialetti e altre lingue e ricordo velocemente che secondo l'indagine Istat del 2017 un 14% degli italiani cioè oltre 8 milioni usa prevalentemente il dialetto mentre il 32% usa sia l'italiano che il dialetto interessante e questo poi ci consentirà di fare alcune considerazioni rispetto a quello che abbiamo visto nello stadio negli stadi e che c'è un uso l'Ista dice che il 68% appunto usa degli italiani usa tendenzialmente il dialetto in famiglia nel usa non tendenzialmente usa anche il dialetto in famiglia nell'Italia meridionale e il 24% di coloro che possiedono una licenza media o titoli inferiori usa quasi esclusivamente il dialetto appunto in famiglia questo per dire che cosa per dire che noi confermiamo sostanzialmente questi dati questi due dati in riferimento al nostro copus agli striscioni che abbiamo raccolto perché gli striscioni si usano in dialetto si usano prevalentemente negli stadi appunto di Roma di Napoli di Firenze cioè centro sud pochissimi invece nel nord e invece abbiamo visto dall'identica di Bocaforni che i tifosi diciamo appartengono un po' ad una fascia un po' medio-bassa anche se alcuni informanti che abbiamo intervistato dicono il contrario quindi abbiamo una vitalità dei dialetti attraverso diciamo documentata dall'indagine Istat da una parte e poi questi dialetti sono visibili anche negli stadi questa è la diciamo la mappa la torta quindi che illustra le lingue diciamo la distribuzione linguistica quindi 80% italiano 15% dialetti e 5 lingue straniere e vabbè qui molto velocemente e poi andremo alla conclusione molto velocemente alcuni esempi e qui qui siamo a Roma France vista crisi presti un euro e quindi France in questo caso riferimento a Francesco Totti che anche in questo caso è un riferimento naturalmente ad uno spot pubblicitario oppure ancora famo i senti a presenza famo è prefisso 0-2 e questi sono romanisti all'interisti naturalmente 0-2 è il prefisso di Milano e a Firenze invece uno quando non c'è appena finito il campionato dice ma da oggi la domenica i che fu e poi ci sono esempi anche in latino abbiamo stottino abbiamo slatan venimos giochimos vincimos in Roma o veba volant coppemanen e poi per concludere davvero vi faccio vedere alcuni esempi appunto abbiamo detto che il calcio non parla soltanto del calcio ma parla anche della società ci sono molti elementi socioculturali quindi dalla letteratura dalla musica al cinema alla famiglia alla religione alla cucina qui vi faccio solo alcuni esempi riferimento alla televisione Militello rimbossaci penarelli o scioperiamo ricordo che Militello è praticamente il giornalista della trasmissione striscia della notizia che ha iniziato a raccogliere e appunto un po' e diffondere attraverso dalla rubrica striscia allo striscione questa diciamo gli striscioni esposti negli stadi e quindi siccome poi loro sostenevano di essere un po' alla base della trasmissione di Militello dicevano rimbossaci appunto i penarelli o ancora Allegri sei su scherzi a parte e quindi riferimento anche in questo caso al programma televisione Allegri è l'ex allenatore del Milan o del Cagliari e di altre squadre e il fiumento alla cucina a Milano Panettoni e a Firenze Bastattoni Luca Toni naturalmente ex giocatore della Fiorentina e di altre squadre meglio la Polenta che la Fiorentina anche in questo caso una diciamo un confronto verbale anche facendo riferimento ad alcuni valori culinari a Parma il crudo a Milano la compa interessante però il discorso rispetto alla famiglia mamma stasera non torno o ancora mamma tardo a pranzo mamma tranquilla sto con la signora e in questo caso signora si riferisce alla Juventus o vi odio più della socia o ancora scusa moglie ma prima c'è laes Roma e poi c'è quello striscione che appunto ho fatto vedere Anna non patturire proprio stasera perché probabilmente c'è una partita importante da vedere e in riferimento alla religione con chiesa e il papa è un siena da Dio e in questo caso naturalmente si riferisce a Enrico Chiesa quando giocava ancora nel Siena e Papadoppolo che era appunto in quel periodo allenatore del Siena e quindi con Siena e il papa è con chiesa e il papa è un siena da Dio Alex riferimento ad Alex del Piero non avrò altro Dio all'infuori di te e l'ottavo giorno Dio creò Totti o ancora Dio c'è e ha il codino in questo caso un riferimento al Roberto Baggio quindi per il suo codino quindi come possiamo vedere ci sono tantissimi esempi allora e poi qui chiudo proprio con questo riferimento ironico insomma Ferrara è un giocatore insomma ha giocato in varie squadre quindi tra cui la Juventus se poi per un infortunio appunto non riuscivo ad andare ai mondiali e i tifosi appunto scherzando appunto proprio sull'infortunio e ho letto da qualche parte che comunque Ferrara diciamo così ha sorriso leggendo anche queste espressioni e queste scritte Ferrara sei proprio un ragazzo in gamba proprio perché si era infortunato oppure Ferrara Coria e mondiali o ancora Ferrara salta con noi bene allora direi di chiudere diciamo illustrando diciamo facendo una brevissima sintesi quindi come possiamo abbiamo visto lì Ultras naturalmente sono conosciuti oppure anche noti come diciamo molto spesso si fa riferimento diciamo a situazioni di violenza quando si parla di Ultras ma abbiamo visto che naturalmente purtroppo c'è anche questo ma se appunto leggiamo le loro scritte dal punto di vista semiotico notiamo che c'è anche un po' o molta molta ironia e parodia e gusto del comico e l'analisi delle decisioni consente di fare come abbiamo visto un viaggio nella cultura musicale gastronomica televisiva cinematografica ma anche familiare e italiana però quando comunichiamo e qui riprendo una citazione di Massimo Palermo solo parte del contenuto informativo è espresso esplicitamente quindi il resto rimane sul fondo implicito e la sua attivazione è lasciata ad un processo di interpretazione partecipativa del ricevente da qui quindi l'importanza di andare oltre appunto alla traccia visibile e cercare di capire diciamo le profondità del messaggio grazie naturalmente al contesto grazie all'esperienza a tutti tutti gli elementi appunto a cui abbiamo fatto riferimento quindi l'interpretazione degli striscioni appunto è possibile solo quando andiamo diciamo decidiamo di andare oltre appunto al significato letterale di conoscere il contesto e di intuire naturalmente le intenzioni bene mi fermo qui devo solo comunicare ai miei studenti che naturalmente da domani potranno trovare le le lezioni diciamo le altre lezioni diciamo andando direttamente sulla piattaforma e-learning dove continueremo naturalmente il programma del corso con le le altre lezioni naturalmente rimango sempre a disposizione eventualmente per e-mail per domande approfondimenti rispetto alle lezioni o a diciamo richieste di chiarimento bene buonasera e statemi bene ciao